Non dobbiamo creare allarmismi perché in questo momento non ce ne sono assolutamente, però dobbiamo attivarci rapidamente per cercare di prevenire appunto la diffusione di questa infezione, che è un'infezione che si trasmette per via aerea e quindi è un'infezione che può trasmettersi anche abbastanza diffusamente. Al momento non c'è pericolo? Direi di no. Non si tratta al momento di un'emergenza sanitaria globale, ma anche in Italia c'è massima allerta sul coronavirus. Il Ministero della Salute ha così inviato a tutti gli organi preposti una nota che definisce il rischio medio, ma dà anche direttive per l'identificazione di un caso sospetto di infezione da questo virus. Ha messo su una task force che ha dato delle indicazioni in relazione al comportamento, l'atteggiamento che comunque i sanitari devono avere nell'ambito della gestione di un possibile, possibile parliamo caso appunto di infezione da nuovo coronavirus. Le vittime in Cina ad oggi sono 26, mentre casi di contagio oltre 800. Non sappiamo ancora precisamente la provenienza, si ipotizza che possa provenire anche addirittura da serpenti, un po' come analogamente nel passato la SARS, era un virus che proveniva dai pipistrelli. I sintomi sono banalmente quelli di una sindrome influenzale, quindi comunque sia parliamo di raffreddore, mal di gola, febbre, molto spesso ovviamente questa situazione tende a guarire spontaneamente e altre volte, a differenza di altre infezioni, si complica con disturbi di tipo respiratorio, affanno, dispnea, quindi una polmonita intestiziale che può avere talvolta anche un esito mortale. Quindi se il paziente ha avuto un viaggio in una zona a rischio, ovviamente presentando dei sintomi di questo genere deve essere assolutamente presa in considerazione l'ipotesi diagnostica. La comunicazione ministeriale adesso è stata inoltrata dall'Asla Toscana Sud-Est a tutti gli ospedali aretini, ma anche ai medici di famiglia e pediatri che sono già pronti in ogni caso a riconoscere la sintomatologia. Le indicazioni sono quelle di avere un algoritmo diagnostico, di tenere in isolamento precauzionale il paziente fino a che non c'è una diagnosi e ovviamente delle raccomandazioni generali che possono essere date a tutti gli ascoltatori, che sono quelli del lavaggio delle mani e del coprirsi la bocca quando si tossisce, si stannutisce, che fanno sì che si possano prevenire anche altri tipi di infezioni, vedi l'influenza o altri raffreddori o simili influenzali.